Benvenuti al nostro canale, oggi vi immergeremo nell'ultima epica sfida tra Luis Sal e Fedez, ex soci di Muschio Selvaggio, che hanno trasformato la loro rottura professionale in una vera e propria guerra legale. La querelle tra i due ex conduttori di Muschio Selvaggio è giunta a un nuovo capitolo, e questa volta il palcoscenico e il tribunale. Luis Sal, visibilmente deciso, rivela di essere coinvolto in una causa legale mossa da Fedez e promette di difendersi a spada tratta. Fedez, tramite il profilo Instagram del podcast, risponde alle dichiarazioni di Luis Sal. In un video diretto e senza filtri, conferma l'assenza di accordi di riservatezza e lancia una provocazione all'ex socio. Il rapper afferma che quando le società al 50% si separano, la soluzione spesso si trova davanti a un giudice. Luis Sal, con una maschera di bellezza e una dichiarazione ironica, smentisce le voci su un accordo riservato, alimentando ulteriormente la polemica. La guerra continua. La battaglia tra Luis Sal e Fedez si fa sempre più accesa, e noi saremo qui a tenervi aggiornati su ogni sviluppo. Cosa nasconde questa causa in tribunale? Scopriamolo insieme. Grazie per essere con noi in questo viaggio nel mondo del gossip. Non dimenticate di lasciare il vostro commento e condividere il video per farci sapere la vostra opinione. Alla prossima, appassionati di Scoop! ragazzi ciao 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 a tutti. Allora confermo anch'io quanto riportato credo da chi, non so da chi, non c'è nessun accordo di riservatezza, non c'è nulla, non c'è mai stato nulla, quindi confermo questa cosa. E sì, quando si ha una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno così fanno gli adulti. Per il resto noi continuiamo a lavorare a Muschio Selvaggio, a testa bassa, continuiamo a farlo, le puntate stanno andando molto bene, quindi intanto vi ringrazio e basta, continueremo a fare il nostro noi. Ciao! Ciao!